Sì, è tenuto questa sera a Quornier un consiglio comunale aperto, come previsto da regolamento comunale, con il tema del pronto soccorso e dell'ospedale di Quornier. La scorsa settimana la visita del nostro Presidente Cirio che ha annunciato l'apertura di un punto di primo soccorso a partire dal 9 gennaio, siamo qua con l'assessore Elisa Troglia che in tutti questi mesi si è impegnata con l'amministrazione per riuscire ad ottenere questo che vuole essere un punto di partenza e non sicuramente un punto di arrivo. Tanti gli interventi questa sera, alcuni più critici, alcuni più riflessivi, se vuoi ripercorrere con noi tutti gli appuntamenti, tutte le tappe che ci sono state ad arrivare sino ad oggi. Tanti gli interventi stasera, moltissimi spunti di riflessione molto interessanti, sono giunti da sindacati, medici, amministratori locali, consiglieri regionali, la direzione generale che è intervenuta all'inizio a spiegarci quello che sarà il punto di primo intervento e si è fermata fino alla fine per raccogliere proprio tutti gli spunti che sono stati portati. Un consiglio comunale aperto, importante per l'amministrazione che ribadisce l'impegno politico da parte di tutti noi per giungere a quello che è l'obiettivo finale che è il pronto soccorso H24. Ribadiamo perché oggi è stato più volte menzionato il problema della sicurezza, quindi che venga ripristinato un servizio di primo intervento che però sia sicuro sia per i cittadini sia per la popolazione e questo aspetto è fondamentale. Ricordiamolo, un punto di primo intervento che sarà aperto dalle 8 del mattino alle 20 di sera e sarà ad uso esclusivo dei codici bianchi e dei codici verdi, questo è molto importante per far sì che le persone non utilizzino questo servizio fuori dall'orario in cui effettivamente è aperto. Da qua al 9 di gennaio tanti saranno gli step quindi immagino anche una complessità nell'organizzare tutto. Sì, noi come amministratore abbiamo dato piena disponibilità a collaborare per un piano di comunicazione a 360 gradi, i cittadini devono essere informati sull'utilizzo di questo punto di primo intervento che appunto ha una fascia oraria che però garantirà nella notte la presenza di una medicalizzata. Sarà importante l'informazione a tutti i sanitari, a tutti i medici di base, a tutti insomma i soggetti coinvolti. Speriamo di partire il prima possibile perché il 9 gennaio è veramente tra due mesi. Un punto di partenza non un punto di arrivo? Un punto di partenza sul quale bisognerà monitorare assolutamente sia per vedere come il servizio funziona su questo territorio ma è solo un punto di inizio. Per noi, per la nostra amministrazione rimane fondamentale continuare la battaglia per quello che è la riapertura del pronto soccorso H24 in sicurezza. Sappiamo che manca il personale, ne abbiamo parlato anche stasera, abbiamo parlato anche rispetto ai motivi per la quale si è arrivati a una mancanza di personale e a una riduzione dei servizi, in particolare sull'ospedale di Quornier. Noi come amministratori siamo disponibili a collaborare per quello che ci compete nel mettere a disposizione le risorse sul territorio per renderlo più attrattivo. Grazie! Grazie per la visione!